Si è conclusa con una uscita a bordo di una motovedetta la mattinata dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti venuto a Sassogna di Fano per verificare di persona l'andamento dei lavori delle scogliere. L'intervento è iniziato un mese fa, è finanziato dal comune di Fano per 900 mila euro e per 3 milioni dalla regione Marche che a base d'asta hanno portato ad un ribasso di circa 540 mila euro, cifra che potrebbe essere riutilizzata per completare la rifioritura di tre setti di scogliere all'altezza dell'ex pista di go-kart. Di progetti e novità se ne è parlato durante una conferenza stampa la presenza dell'assessore all'ambiente e ai trasporti che ha descritto sia la giunta Seri che quella Ceriscioli come esempi di amministrazione virtuosa. Gli impegni presi, ha detto Sciapichetti, sono stati mantenuti eppure nei tempi prefissati. Ha fatto notare inoltre la grande civiltà e la serietà di chi nel tempo ha subito danni ingenti a causa delle forti mareggiate. La compostezza, la serietà, l'impegno con cui gli operatori commerciali fanesi e anche gli abitanti hanno affrontato questo tema è un esempio un po' per tutti i marchigiani perché l'hanno fatto con grande compostezza, con grande serietà e collaborazione. Per troppo tempo ha detto Sciapichetti non c'è stata la dovuta manutenzione e quindi oggi bisogna recuperare anni di abbandono e lo si fa in un momento difficile in cui ci sono poche risorse economiche. A suo fianco oggi anche il consigliere regionale Minardi che si è adoperato in questi mesi per accelerare i tempi burocratici. Il caso emblematico è che il progetto presentato in regione ha avuto il decreto di autorizzazione in meno di 24 ore. L'ho personalmente portato io al sindaco. Il fatto di aver consentito un mese in più di lavori e quindi di accelerare i tempi sono il segno e il significato che c'è questa forte collaborazione come la presenza oggi qui a Fano dell'assessore regionale perché rendersi conto anche visivamente dei problemi aiuta a risolvere tutte le questioni che sono sul tavolo. Sicuramente la difesa della costa di Sassonia Sud era uno dei temi importanti che insieme regione e comune abbiamo affrontato e si stanno risolvendo. Soddisfatto anche il sindaco Seri che in questi giorni ha firmato un'ordinanza a carattere cautelativo di divieto di bagnazione nell'area interessata dai lavori fino al prossimo 31 maggio. Una domenica pomeriggio sotto la pioggia ho incontrato i residenti, non ero ancora sindaco impegnandomi che se lo fossi diventato uno dei primi impegni sarebbe stato questo. Effettivamente io mi sono insediato il 12 giugno, il 13 giugno ero già in regione per parlare di dragaggio del porto e della difesa della costa. Oggi è una soddisfazione a distanza di meno di due anni essere qua con questi scogli alle mie spalle anche perché giustamente i cittadini in quell'incontro gli dissero come sempre ci raccontate questa cosa e c'era una certa diffidenza. Però ecco la cosa importante che qua si sta realizzando un intervento straordinario che porterà una risposta spero definitiva per questa realtà dove si parla di difesa della costa, dove si parla di qualità delle acque perché con lo scolmatore si tuteleranno anche le acque e riqualificazione di Viale Ruggeri e della pista dell'Explocari. E sempre a carattere cautelativo hai messo un divieto di bagnazione nella zona interessata? Sì per una messa in sicurezza in questo mese stanno lavorando è normale che non si deve andare vicino è come quando c'è un cantiere che si realizza una casa per la bagnazione non ci sono problemi perché a fine maggio interromperanno i lavori gli scogli di fronte allo scolmatore non ci saranno verranno messi dopo settembre quindi rimarrà la situazione come lo scorso anno per quello che riguarda la tutela delle acque quindi il divieto di bagnazione in questi 30 giorni è un via cautelativo per consentire i lavori quindi il divieto di bagnazione in questo modo è una vita importante Grazie a tutti!